Professoressa Bruni, quali sono i vantaggi che la contraccezione ormonale può dare all'adolescente? Sono sicuramente il meccanismo stesso di azione dei contraccettivi ormonali, mi riferisco in questo momento ai contraccettivi ormonali combinati, di per sé stesso può avere delle influenze molto positive su alcune condizioni. Una delle condizioni è sicuramente i flussi mestruali abbondanti, l'azione della pillola ha un'azione soppressiva sull'endometrio, riduttiva, contenitiva dell'endometrio stesso, quindi si riduce la mestruazione. Un'altra azione importante è sui dolori, sulla dismenorrea, sicuramente il blocco delle prostaglandine che è il meccanismo principale per fare le mestruazioni dolorose, comporta che ci sia una risoluzione pressoché nel 100% dei casi della stessa. Ma il meccanismo d'azione sempre a livello endometriale ha un'importanza forte in una grossa patologia emergente oggi che può avere inizio anche in adolescenza, cioè l'endometriosi. Noi sappiamo che il trattamento con estroprogestinice è sicuramente protettivo nei confronti dell'endometriosi durante l'uso. Non sappiamo se sia preventivo della stessa endometriosi, questo non lo possiamo dire, ma sappiamo sicuramente che dopo interventi per endometriosi l'uso della pillola contraccettiva riduce le recidive, quindi è un'azione assolutamente positiva. Ma non finisce qui una delle condizioni che affliggono di più gli adolescenti. L'iperandrogenismo funzionale sicuramente, ma io credo si può dire il 70% delle giovani donne tra il post menarca fino ai 25 anni ha un'acne più o meno rappresentata, ma comunque ha un'acne. Una quota percentuale è anche un iperandrogenismo espresso da un irsutismo, da un ipertricosi. Quindi queste condizioni migliorano sicuramente sotto pillola. Migliorano per due motivi. Uno, perché la pillola blocca la produzione ovarica di ormoni maschili, sicuramente. Ma si bloccano anche per un altro motivo, perché l'uso della pillola aumenta delle proteine che si chiamano SHBG che bloccano gli androgeni liberi. Quindi è un'azione di spada e scudo in un certo senso e che poi contemporaneamente sono anche contraccettive. E possono essere anche di grande aiuto nella collaborazione con il dermatologo, perché alcune terapie dermatologiche sono embriotossiche e in corso di queste terapie embriotossiche può essere usata la pillola. Quindi avendo una doppia azione di bloccare la produzione di ormoni maschili, di ricontenere la quota libera e al tempo stesso di permettere a questi preparati dermatologici, mi riferisco all'isotetinoina, di poter agire direttamente a livello dell'unità pillosebacea. Ma potrei continuare ancora per molto.